Cominciamo, anche se le 92 persone non sono arrivate. Allora, innanzitutto buonasera, grazie di essere intervenuti. Io sono Annalisa Viganò della società IBD, International Business Development. Quello che io faccio è promuovere le aziende italiane in Qatar, ormai da una decina d'anni. Ho iniziato a conoscere il paese come export manager della mia azienda di famiglia per poi diventare un'imprenditrice di me stessa e mettermi al servizio delle imprese italiane come facilitatore di business, procacciatore di affari e più che altro mettermi al servizio anche della Compagnia delle Opere e delle aziende che fanno parte del circuito di Compagnia delle Opere. Il lavoro che solitamente io svolgo in Qatar si muove attraverso due binari. Uno è quello dell'azienda che si rivolge a me quando ha una necessità di esportare, di internazionalizzare e vede nel Qatar una possibilità di sbocco. E il secondo binario invece è quello di recepire dal Qatar una serie di progetti o di richieste specifiche e trovare in Italia i fornitori per quello specifico progetto o per quella specifica attività. Negli anni ho sviluppato una serie di relazioni tale per cui molto spesso il fatto di fare da tramite nei confronti di un'azienda italiana garantisce all'interlocutore Qatarino la serietà dell'azienda che presento, la solidità dell'azienda che presento e mette lui in una situazione di fiducia nei miei confronti e nei confronti anche delle aziende che presento. Molto spesso appunto mi viene detto che le aziende che vengono presentate da noi sono aziende serie, sono aziende preparate con dei prodotti di nicchia piuttosto che dei prodotti per i quali essere italiano è un valore aggiunto e quindi nei loro confronti appunto c'è voglia di conoscere queste imprese italiane c'è una disponibilità all'incontro favorita da anni di conoscenza. Io volevo iniziare questo focus sul paese in una maniera un po' particolare evitando di spiegare quello che è il Qatar, quali sono le sue opportunità o perlomeno toccarle durante la discussione ma quello che volevamo fare oggi era quello di partire dalle esperienze di tre imprenditori imprenditori come voi che in un modo o nell'altro hanno pensato di internazionalizzarsi e hanno pensato al Qatar come un paese dove poter andare a vendere i loro prodotti o i loro servizi. Quindi abbiamo qua al tavolo tre imprenditori che poi vi presenterò noi li ascolteremo e capiremo fondamentalmente cosa vuol dire internazionalizzarsi e più che altro cercheremo di far uscire quello che secondo noi è la vera essenza dell'internazionalizzazione ossia il processo di internazionalizzazione deve essere un processo che coinvolge tutta l'azienda non è soltanto andare in un paese, recuperare dei contatti e presentarsi con un bel catalogo scritto in inglese vuol dire trasformare, adeguare la propria azienda ad essere uno strumento e ad essere un veicolo in un paese straniero. Quindi internazionalizzare vuol dire intervenire sulla globalità della nostra azienda intervenire sul prodotto, sul modello di business, sulla pianificazione finanziaria, sulla propria organizzazione e sulla formazione dei propri collaboratori. Sicuramente un lavoro mordi e fuggi non paga più. Qui con me al tavolo abbiamo tre imprenditori volevo iniziare da Ceresio Arredamenti abbiamo il signor Lorenzo Bossi lui ci ha accompagnato in una missione organizzata da Compagnia delle Opere a marzo è arrivato con un prodotto adeguato al paese un'esperienza già fatta all'estero molto forte in Russia una filosofia aziendale improntata alla flessibilità e all'essere, all'andare incontro al cliente e una rete di imprese costituita apposta per affrontare i mercati stranieri. Vorrei che Lorenzo ci raccontasse la sua esperienza in Qatar cosa gli hanno colpiti, cosa ha imparato, quali sono le difficoltà ma soprattutto vorrei che ci raccontasse del lavoro che ha fatto come azienda e come imprenditore da quando ha deciso di incontrare i mercati esteri. Per loro in Qatar c'è già un risultato anche se sono nuovi nel paese perché fondamentalmente sono venuti con noi a marzo e poi non hanno fatto più viaggi però grazie a dei contatti con Qatar Foundation che ho potuto sviluppare negli anni mi è stata fatta una richiesta specifica Qatar Foundation è un'organizzazione che forse adesso tutti conoscono per via del fatto che è lo sponsor del Barcellona però Qatar Foundation è un'associazione no profit che è stata voluta dall'Emiro e il presidente dell'associazione è la Sheikah Mosa che è la seconda moglie dello scorso Emiro perché adesso quest'estate è appunto abdicato in favore del figlio che ha tre scopi fondamentali ma lo scopo principale è quello della cultura perché il Qatar è un paese che punta tantissimo sulla cultura sull'istruzione sul voler rendere i loro giovani dei giovani imprenditori che non hanno la necessità di andare a studiare all'estero ma che trovino all'interno del loro paese una ricchezza di università e atenei in grado di rendergli appunto la loro forza per il futuro all'interno di Qatar Foundation ci sono sei università le più grosse americane come la Carnegie Mellon la Georgetown e altre ci sono una serie di laboratori ci sono una serie di strutture per ospitare gli studenti ma la cosa fondamentale è che Qatar Foundation è la linfa del paese e chi vuole lavorare seriamente nel paese non può non passare in qualche modo attraverso Qatar Foundation Qatar Foundation mi ha fatto una richiesta specifica all'interno della società della facoltà degli Islamic Studies avevano la necessità di mettere un tavolo particolare un tavolo che rappresentasse la mappa di Doha questa mappa di Doha doveva essere fatta con una tecnica particolare ad intarsio utilizzando il peltro come materiale quindi per me non era facile trovare un'azienda che fosse in grado di fare esattamente questo prodotto e con le caratteristiche che mi venivano chieste da Qatar Foundation avendo conosciuto Ceresio Arredamenti e la sua rete di impresa durante la missione di marzo ho identificato in loro un fornitore ideale per quel tipo di prodotto ho chiesto a loro se erano interessati su quel progetto perché tante volte mi capita anche che le aziende mi rispondono no guarda non siamo interessati è un prodotto che esula da quella che è la nostra produzione standard è troppo difficile, non vogliamo investire loro invece si sono proprio subito dichiarati favorevoli a cercare di capire qualcosa di più di questo progetto non solo Qatar Foundation chiedeva dei campioni che loro hanno realizzato in tempo record campioni che dovevano essere spediti in Qatar per essere poi valutati da una commissione tecnica particolare non hanno voluto spedire i campioni con un DHL ma hanno incaricato me di portare personalmente i campioni in Qatar io ho fatto, ho parlato con la persona di riferimento e la decisione è stata presa lì davanti a me abbiamo confrontato tre diversi campioni che erano stati spediti e Ceresio Arredamenti si è aggiudicato questo tipo di commessa che genererà poi un tender dove lui è stato identificato come unico fornitore quindi deve passare assolutamente da lui questo tipo di progetto la decisione è stata presa quest'estate a luglio perché io sono andata mi sembra il 5-6 di luglio ad oggi il tender non è ancora uscito abbiamo la certezza matematica di essere stati selezionati come unici fornitori ma i tempi in Qatar sono lunghissimi da quando si prende la decisione a quando vediamo il frutto del nostro lavoro possono passare mesi a volte anni adesso lascio la parola a lui che vi spiega appunto quella che è stata la sua esperienza Buonasera Allora, io per parlare del Qatar devo fare un passo indietro e dire chi siamo noi e come abbiamo fatto ad arrivare lì Allora, la Ceresio Arredamenti è nata nel 1922 quindi io sono la terza generazione, in azienda c'è già la quarta che lavora già inserita e diciamo che tradizionalmente fino a 4 anni fa il nostro fatturato è sempre stato 100% Italia noi siamo attivi nel comparto degli arredi commerciali quindi abbiamo fornito i più grandi gruppi italiani gruppo rinascente insomma, chi faceva distribuzione in Italia bene o male ce l'avevamo tra i nostri clienti 4 anni fa, più o meno, cos'è successo? è successo che è cominciata la crisi pesante in questo comparto quindi crisi dei consumi Remi imbarca da parte di queste grandi società e quindi punto di domanda a noi cosa facciamo? perché ho visto svanire il fatturato che ormai tradizionalmente c'era ecco, per noi io quello che dicevo fino a quel momento lì che per noi fare fatturato voleva dire come dire, rispondere un pochettino al telefono su per giù, no? perché le commesse arrivavano grosso modo così adesso non sembra più vero però assicuro che era questo quello che accadeva quindi da qua al nulla da qua al nulla il passo è stato piuttosto breve e violento quindi qui diciamo un po' un punto di domanda noi che cosa facciamo adesso cosa faremo noi di qui in avanti e quello che la risposta è arrivata subito guardiamoci in giro all'estero che cosa sta succedendo quindi un po' con la fortuna che io dico che va sempre ricercata attentamente è la fortuna, quindi ognuno se la deve cercare abbiamo avuto la possibilità di partecipare a questa commessa molto importante in Russia e l'abbiamo vinta qui si trattava di realizzare un arredo di 2500 metri quadri proprio nel nostro settore quindi arredo commerciale di altissimo livello in sei settimane l'abbiamo vinta, quella scommessa lì non l'abbiamo vinta da soli perché ci siamo fatti aiutare da altre aziende e abbiamo portato a casa questo importante successo qui abbiamo conosciuto un importante commerciale e per servirla abbiamo creato questa rete di impresa quindi noi da quattro anni che lavoriamo attivamente in Russia e ad oggi diciamo che il nostro fatturato è sbilanciato molto verso quel paese lì quindi il passo successivo qual è stato quello di dire si va bene l'estero ma nell'estero non c'è solo la Russia qual è l'altra area molto interessante oggi dove poter puntare la nostra esperienza dove andare a cercare altre quote di fatturato e abbiamo individuato il Golfo Persico in particolare il Qatar quindi per andare in Qatar non è che si prende l'aereo e si va giù e poi quando sbarchi dove vai quindi abbiamo approfittato di questa missione che abbiamo fatto a marzo organizzata dal CDO in cui ho conosciuto Anna Lisa molto molto interessante quel paese e lì la crisi veramente non la si percepisce come qua, cantieri per ogni dove insomma sono rimasto impressionato da tutto quello che sta succedendo là e anche sono rimasto impressionato anche dal fatto che pur essendo un paese arabo e tutto con quello che mi consiglio invece lì ho visto delle aperture che magari da altre parti uno non vede ecco quindi è un paese, è uno di quei paesi in quell'area lì però diciamo un po' anomalo per quello che si possa pensare qua ho partecipato a questa missione interessantissima per capire, venne la missione più che altro sono andato per capire se là c'era posto per noi ecco perché queste missioni come diceva giustamente Anna Lisa i tempi sono importanti poi non vai giù da solo quindi per emergere poi ci vuole ci vuole dell'altro anche qui diciamo la fortuna ha voluto che siamo stati interpellati da Capar Foundation tramite Anna Lisa per questa campionatura che faceva parte del nostro lavoro che il nostro lavoro è un pochettino arredo di la nicchia della nicchia la chiamo io perché una richiesta così per noi era un punto di domanda importante abbiamo provato abbiamo provato è iniziato a fare test a casa a vedere come si poteva fare poi abituati sicuramente a gestire commesse importanti perché in Russia siamo arrivati a fare arredi governativi quindi livelli importantissimi dove magari il gusto è quello lì che non è il nostro però io dico non guardo il bello e il brutto guardo il fatto bene e il fatto male quindi e lì nel fatto bene abbiamo imparato dovuto imparare tanto con le finiture noi negli arredi commerciali non erano richieste quel livello di finiture lì questa esperienza qui l'abbiamo applicata a questa campionatura che abbiamo fatto quindi un'attenzione maniacale negli accostamenti proprio siamo diventati ancora più maniaci dei nostri clienti che ci fanno le pulci così bisogna fare per per arrivare a un punto in quei paesi e abbiamo applicato questa esperienza qui su quel campioncino lì ci abbiamo messo dentro tutto la nostra tutto il nostro sapere e l'abbiamo spuntata con ditte molto più importanti di noi e anche italiane non solo perché c'era c'era un americano dentro che spuntarla su di loro magari non è così scontato no? sì i tempi sono anche lì biblici dico anche lì perché anche in Russia va un po' in quel sensolino quindi siamo già abituati a a dover gestire queste tempistiche che sono lunghissime nella fase preliminare poi cortissime dal momento della decisione in poi perché basti pensare le sei settimane che vi ho detto prima dalla stessa settimana sono partiti 15 biblici quasi uno dietro quell'altro quindi solo a riempirli ci vuole ce ne è voluta un po' quindi tempi molto ristretti dopo e questa parte qui deve ancora arrivare ma già la so quindi anche lì siamo siamo pronti perché il progetto deve essere finito a marzo dentro marzo quindi non è ancora uscito il tender poi dopo cioè una cosa che noto sempre è che quando parlano di tempi così magari qui a marzo ce n'è di tempo però poi ora che partono in disegna provano in disegna alla fine per la produzione rimangono 3-4 settimane questo è quello che è successo fino adesso adesso questo è un esempio molto concreto in Russia noi oggi stiamo parlando di un progetto presentato un anno e mezzo fa quindi bisogna essere pronti anche a a ste robe qua e già so che quando alla fine passerà e andrà anche lì ci saranno dei tempi veramente ristretti quindi trasformazione pesantissima no? per che abbiamo noi già sostenuto siamo entrati in quell'ordine di idee lì 4 anni fa con la prima commessa adesso viene tutto come dire più semplice perché cioè siamo già pronti al peggio siamo già pronti al peggio ad oggi il risultato è che 4 anni fa fatturato estero per noi facevo presto a calcolarlo perché era zero spaccato oggi siamo intorno al 70% di fatturato in esportazione naturalmente verso la Russia ecco quindi bisogna darci dentro tanto impegnarsi impegnarsi veramente molto ma poi i risultati arrivano volevo farti soltanto allora innanzitutto se ci sono delle domande che volete fare a Lorenzo no allora la mia domanda è quanto ti ha aiutato il discorso della rete nell'affrontare un mercato difficile come poteva essere quello del Qatar partendo poi da un'esperienza così limitata come quella che avevi allora fondamentale fondamentale innanzitutto perché l'unione fa la forza non l'ho inventato io ma l'ho testato ecco da soli non l'avremmo mai fatto da soli quel percorso lì in Russia non l'avremmo mai portato a termine uno per questione di costi perché purtroppo con la crisi poi vengono a mancare anche delle risorse che magari prima di cui prima potevi disporre dopo no quindi mettendo insieme piccole risorse si fanno poi anche anche da un punto di vista proprio così personale no essere insieme ad affrontare delle cose nuove è è meglio che essere da soli diciamo che noi ad oggi siamo riusciti una cosa che non ho detto prima siamo riusciti ad aprire a ottobre un piccolo ufficio showroom a Mosca ecco dopo tre anni con i costi di affitto che ci sono a Mosca ripeto da solo non l'avrei mai fatto mai anche perché noi siamo una piccola impresa noi siamo in 30 fatturiamo circa 4 milioni e mezzo di euro quindi non è che abbiamo cifre incredibili a disposizione mettendosi insieme ce l'abbiamo fatta abbiamo creato il catalogo abbiamo creato il sito abbiamo insomma abbiamo fatto tutta una serie di 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 azioni che generano dei costi purtroppo e pertanto l'unione fa la forza devo aggiungere questo che la nostra rete l'impresa per me è tipicissima ma me la chiamano atipica perché è una rete fatta con concorrenti una cosa che non ho detto prima perché per affrontare il primo lavoro realizzato in 6 settimane per noi impossibile con la nostra forza produttiva da da mettere insieme a chi mi potevo rivolgere se non a dei miei concorrenti in particolare uno che è sempre stato mio come dire a cerrimo nemico che incontravo sempre con la quale mi scontravo adesso è via prima di venire qui ero lì da loro a trattare una commessa che stiamo anche quella realizzando insieme perché loro conoscono il mercato quanto lo conosciamo noi hanno i nostri problemi come li abbiamo noi gli è crollato il fatturato come è crollato a noi e cercano sbocchi come dice che quindi ci sono in questo momento più cose che ci accomunano che non cose che ci che ci dividono quindi abbiamo creato questa rete tra facciamo le stesse cose tutti quanti affrontiamo commesse molto più grosse di quello che non potremmo fare altrimenti e per noi speriamo che in Qatar prosegua prosegua il percorso di dover affrontare anche lì queste commesse insomma grazie molto per il tuo intervento davvero molto mirato e penso che ci siano diversi spunti che possiamo cogliere da questo tipo di intervento come imprenditore ovviamente ci auguriamo che tu possa replicare la stessa esperienza in Qatar da quello che posso dire io riguardo al discorso di unirsi su certi lavori in Qatar è fondamentale proprio perché i lavori a volte sono talmente grossi che un'azienda sola anche a livello finanziario non ce la fa e molto spesso piuttosto che presentarsi con un prodotto soltanto in Qatar è molto apprezzato quando noi gli presentiamo un panorama completo una serie di prodotti che servono a loro per risolvere un'esigenza specifica che hanno per cui invece di vendergli la sola piastrella di marmo noi siamo in grado di vendergli il marmo siamo in grado di vendergli il legno siamo in grado di fargli il fit out siamo in grado di fornirgli le arredi quindi più rendiamo solido il nostro pacchetto da un punto di vista finanziario e da un punto di vista proprio di offerta meglio meglio è e sicuramente possiamo avere delle chance rispetto ai nostri competitors che credetemi in Qatar ci sono è un mercato abbastanza saturo ci sono competitor da tutto il mondo in cominciare dai cinesi fino insomma arrivare ai nostri colleghi europei adesso il nostro secondo intervento sarà portato avanti da Ivano Viganò della ditta Viganò EC un'azienda brianzola di Verano Brianza che produce sedute per ufficio l'azienda nasce più di 40 anni fa come laboratorio di tapezzeria e negli anni si sviluppa e poi diventa un'azienda strutturata nella produzione di sedute per ufficio sale d'attesa meeting e collettività loro hanno incontrato il Qatar non attraverso una missione economica ma hanno identificato appunto nel Qatar un paese dove loro potevano avere degli sbocchi e invece che andare da soli su questo paese senza avere la minima idea di quelli che potevano essere i player nel paese hanno deciso di affidarsi a una realtà che nel paese ha sviluppato una serie di relazioni negli anni ha sviluppato una serie di conoscenze e quindi hanno deciso di affidarsi alla mia azienda come promotore del loro prodotto in Qatar Ivano è stato recentemente con me in Qatar il mese scorso e come imprenditore titolare di un'impresa che si presenta nel paese ha sicuramente un valore io agli imprenditori che si affidano a me dico sempre venite accompagnatemi nei miei viaggi in Qatar è vero io posso fare la promozione di questo o di quell'altro prodotto ma io voglio che l'imprenditore mi accompagni il più possibile perché innanzitutto si rende conto di quello che il mercato offre si rende conto delle realtà che sono presenti nel mercato e delle necessità che ci sono nel mercato con lui ad esempio sono emersi una serie di discorsi ed opportunità concrete che si svilupperanno poi in una strategia commerciale pesante su come affrontare il paese ad esempio in questo momento Ivano sta cercando di capire quale sarà il suo distributore ideale e quindi quello che voglio chiedere a lui è ovviamente le tue impressioni per quanto riguarda la missione la realtà che tu hai che tu hai trovato ma più che altro quali sono i criteri per scegliere il partner ideale in base a quali a quali ragioni a quali principi tu sceglierai uno o l'altro distributore cosa deve avere per il tuo prodotto quali caratteristiche deve avere un'azienda locale che sarà poi il tramite per la vendita del tuo prodotto buonasera io sono Ivano Viganò sono il titolare dell'azienda omonima che ha una cinquantina d'anni e produciamo poltroni per ufficio abbiamo sempre lavorato in Italia e da una quindicina d'anni stiamo cercando di esportare poche cose le abbiamo fatte in maniera saltuaria in giro per l'Europa e adesso stiamo cominciando a cercare di capire come fare a esportare in maniera organizzata prima di tutto prima di fare questi passi ho cercato di strutturare l'azienda per cui nei miei uffici ci sono quattro persone che parlano quattro lingue questo per dar modo a chiunque faccia delle richieste dall'estero di non avere difficoltà di lingua anche se l'inglese ormai è lingua comune però chi deve interloquire dalla Germania può parlare in tedesco chi dalla Francia può parlare in francese e poi l'inglese per tutto il resto del mondo io ho cercato il Qatar perché ho lavorato precedentemente a Dubai e in Arabia Saudita ma in maniera saltuaria poi per una serie di informazioni che ho avuto ho saputo che il Qatar è una terra molto fertile molto ricca di progetti per cui quando ho conosciuto Annalisa ci siamo accordati e abbiamo cominciato a cercare di capire come fare a andare a promuovere la mia azienda che comunque in quel paese era sconosciuta per cui a febbraio abbiamo raggiunto un accordo e Annalisa ha cominciato a promuovere la mia azienda e i miei prodotti con i cataloghi da lì abbiamo cominciato a dare delle risposte quando ci venivano fatte via mail o via telefono finché poi a ottobre il mese scorso io ho fatto cinque giorni in Catare e ho affiancato Annalisa in tutte quelle realtà che erano già stato presentato da lei per cui abbiamo fatto tre giorni intensi di lavoro con 18 incontri questi 18 incontri sono stati con 18 distributtori del mio prodotto io faccio un prodotto che è un prodotto seriale non è un prodotto da progetto per cui con le mie sedie devo inserirmi sicuramente nei capitolati di fornitura globale di quello che sono gli uffici abbiamo incontrato queste 18 aziende ho valutato e pesato questi 18 interlocutori e sulla base di questa esperienza adesso andrò a scegliere quali saranno uno o due di questi distributori con i quali intenderò lavorare sbagliato a priori è quello di pensare di lavorare con tutti perché il Qatar è piccolo sostanzialmente è Doha il punto nevralgico e chiaramente è lì che si concentrano tutti si conoscono tutti il paese è piccolo per cui bisogna cercare degli interlocutori mirati che non si facciano guerra uno con l'altro i canali sono due per cui io penso che su queste 18 situazioni che io ho visitato sceglierò su una base anche emotiva se vogliamo poi si potrà anche sbagliare sceglierò i cavalli vincenti su cui andare a lavorare ci sarebbe un'altra situazione da poter cavalcare in questo mercato che è quella di non andare a lavorare con il distributore ma andare a lavorare direttamente sul progetto io non ho un'azienda con un brand molto forte che può permettersi questo questa è una mia riflessione però durante la mia visita ho visto anche molte aziende miei competitor anche di livello molto molto grande tedeschi o americani che comunque si avvalgono sempre del distributore questo vuol dire che comunque avere una società o una persona che segue da vicino i progetti che possono nascere in questo paese è importante e pensare di gestire tutto direttamente dall'Italia è impossibile neanche se si ha un brand molto forte per cui io all'interno di queste 18 visite sceglierò a breve entro l'anno ci siamo dati come obiettivo queste due realtà sulle quali poi puntare per vedere di sviluppare il lavoro i tempi sono lunghi analisa ha cominciato con i miei prodotti a febbraio solo ora stiamo cominciando a lavorare su almeno 5-6 progetti che ci sono stati mandati per quotare tutti i nostri prodotti all'interno di questi tender io ho capito che parlando anche con questi distributori l'80% del lavoro viene fatto dalla Qatar Foundation e tutti questi distributori chiaramente lavorano su questa entità il discorso è trovare chi è il veicolo ideale e più giusto per i miei prodotti all'interno di questi progetti per cui sostanzialmente ho scartato a priori il fatto di andare direttamente ho preso in considerazione il veicolo del distributore e si tratta adesso di su una base emotiva o anche di alcuni segnali concreti che mi sono stati dati quando ho fatto la visita in Qatar di scegliere quelli giusti i tempi sono veramente lunghi penso che un anno di lavoro è quasi andato ma è stato molto importante ci vorranno ancora a mio giudizio altri 6-7 mesi per cominciare a sviluppare quello che scaturisce in questi giorni in questi periodi e poi probabilmente una volta che l'interlocutore avrà dei segnali forti anche dalla mia azienda ci sarà questa fidelizzazione e da lì allora cominceremo veramente a fare il lavoro interessante questo è quello che ho capito ho cercato di capire e ho percepito da questa visita che ho fatto io in Qatar grazie io volevo aggiungere soltanto una cosa lui come ha detto produce sedie per ufficio il mercato delle sedie per ufficio ha dei colossi di riferimento parliamo di Emmer Millers il case non vado nel dettaglio comunque sia nelle visite che noi abbiamo fatto gli interlocutori che magari erano i distributori di questi grossissimi marchi comunque hanno trovato nel suo catalogo una serie di prodotti una linea di prodotti che poteva comunque essere aggiunta a quella del grosso marchio o della grossa azienda quindi a volte ci facciamo spaventare diciamo vabbè quel distributore lì ha già l'azienda XY quindi non può essere interessato alla mia realtà che sicuramente è più piccola e può offrire meno rispetto a quello che può offrire un colosso invece non è così noi siamo stati piacevolmente stupiti dalla reazione di questi distributori che sogliando il catalogo di Viganò e C comunque sempre tutti hanno trovato qualcosa che lo differenziava dagli altri e quindi questo vuol dire che anche noi come italiani abbiamo questa capacità che ci differenzia o che comunque ci pone allo stesso livello anche dei grossi e sicuramente siamo più flessibili rispetto ai grossi gruppi che hanno una produzione standard industrializzata che non possono andare al di fuori di quello che viene comunque sempre prodotto tant'è vero che mentre eravamo in Catar gli è stata fatta una richiesta specifica per un tavolino nominate per chi? Per Catar Foundation e lui nel giro di due giorni essendo lui in Catar è riuscito a far partire questo tavolino dall'Italia in tre giorni il tavolino è arrivato in Catar il tavolino sfortunatamente è arrivato rotto quindi ha dovuto a sue spese di nuovo spedire il tavolino finalmente il tavolino è arrivato al distributore che l'ha presentato a Catar Foundation stiamo aspettando l'esito di questa prima fornitura campione questo per spiegare quanto conta l'essere anche veloci nelle reazioni perché loro lì pretendono tutto e subito quando devono dare ci mettono una vita anche una risposta se non sai qualità si schiacciare se non sai come muoverti nel paese non ti rispondono mai non ti rispondono mai all'email non ti rispondono mai al telefono bisogna entrare nella relazione una volta che si è costruita la relazione ti rispondono e sono contenti di vederti ma se non arrivi ad entrare nella loro fiducia se ne fregano di te non ti rispondono ed è un passo che scoraggia molto gli imprenditori perché dicono cavolo ho fatto la missione ho visto queste aziende e adesso che sto cercando di avere un feedback non mi rispondono bisogna sapersi muovere in questo paese bisogna sapere come muovere se a volte l'email non va bene bisogna prendere il telefono telefonare bisogna prendere un aereo andare giù e farsi vedere o bisogna affidarsi a persone che il paese comunque lo conoscono comunque la sua è l'esperienza di un'azienda media di dimensioni media ma ben strutturata che ha capito cosa vuol dire fare estero e che prima di muoversi ha preparato l'azienda nella maniera giusta c'è sempre qualcuno che può rispondere al telefono c'è un catalogo strutturato bene in inglese strutturato bene anche dal punto di vista grafico perché conta molto anche la presentazione che noi facciamo di fronte ad un interrogatore che non ha idea di chi siamo quindi la prima impressione che ha è quella che gli viene data dalla nostra presentazione presentarsi con un bel catalogo una bella realtà saper gestire una relazione è molto importante quindi quello che io dico sempre prima di pensare di andare in Qatar facciamo un esame di coscienza cerchiamo di capire se la nostra realtà la nostra azienda è strutturata nella maniera adeguata per poter affrontare quel paese se non lo è ci muoviamo nella direzione giusta per poter arrivare ad essere pronti se invece lo è abbiamo tutte le carte in tavola per poter tentare insomma di entrare nel paese l'ultimo intervento è da parte dell'azienda Italserramenti abbiamo Roberto Galli che è il presidente dell'azienda l'azienda è nella provincia di Brescia e produce serramenti in legno legno alluminio legno di vetro strutturale o solo vetro loro hanno partecipato alla seconda missione di CDO quella che si è appena svolta durante il mese di ottobre e hanno anche loro avuto un notevole successo dopo la loro presentazione loro sono arrivati molto preparati dal punto di vista appunto dell'immagine della presentazione io gli avevo suggerito di portare una serie di campioni perché i catarini sono sempre molto affascinati dalla campionatura dal campione loro poi fanno un prodotto che è eccezionale che paragonato al prodotto mediocre che è disponibile nel paese ovviamente ha riscosso un successo strepitoso ma addirittura da ringraziarci perché siamo andati e ci siamo presentati cioè questo è successo e lui lo può testimoniare di persone che mi hanno detto grazie per avermi presentato questo tipo di azienda grazie per le aziende che ci porti perché dimostrano ogni volta il valore effettivo che hanno ok quello che io vorrei chiedere a Roberto è essendo il suo innanzitutto anche lui l'impressione che ha avuto da parte del paese da parte degli interlocutori ma più che altro quali sono le decisioni che l'azienda deve prendere a seguito di questa missione lui ci parlerà molto bene perché ha molta coscienza di quello che deve ancora fare hanno appena iniziato il loro percorso di internazionalizzazione e sono consci di questo quindi sanno perfettamente che la strada che dovranno affrontare è una strada in salita che comporterà una serie di trasformazioni e lui ci parlerà appunto di queste ma di quanto diciamo gli input che ha ricevuto nella missione adesso sono importanti per sviluppare un prodotto ad hoc per rispondere a quella che è l'esigenza del mercato inoltre la seconda domanda che volevo fargli è essendo il suo prodotto un prodotto molto tecnico sia in fase di preventivazione che in fase di pose in opera quali caratteristiche deve avere il partner ideale più che altro nel loro caso si dovranno affidare ad un'azienda strutturata a livello tecnico che sia in grado non solo di vendere il suo prodotto di proporlo e poi anche di installarlo e di fare anche il post vendita prego a parte i complimenti ma un po' esagerato come al solito Annalisa il riscontro è stato eccezionale sicuramente portando l'alta gamma che l'azienda produce il riscontro è stato ottimo diciamo che per noi è la prima esperienza è un'azienda che ha sempre lavorato sul territorio nazionale dunque è riuscito a resistere in questi 4-5 anni di crisi dell'edilizia a mantenere i fatturati però calano i margini e le prospettive del nostro settore sono sicuramente negative dunque si guarda all'estero abbiamo avuto più che un approccio costruttivo verso l'estero abbiamo cercato di rispondere alle richieste che abbiamo ottenuto tramite il Mada Expo che abbiamo fatto negli ultimi anni poi abbiamo conosciuto Annalisa tramite il CDO e assieme abbiamo scelto questo paese per fare un test operativo non solo di risposta a richieste di preventivo di fornitura da parte di paesi estri ma provare a affrontare un paese e capirne quali sono le caratteristiche e quali sono le esigenze è stata una missione sicuramente per noi di grande soddisfazione dal punto di vista del riscontro immediato certo ci siamo attrezzati con campioni non campioni tutto quello che si poteva portare e abbiamo incontrato delle persone ben disposte ad ascoltarci ma la cosa più importante è ben disposte a fornirci informazioni perché nonostante l'analisi fatta in azienda sul paese su cosa si usa sulle abitudini non c'è nulla come andare sul territorio ma non quanto andarci ma trovare degli interlocutori che Annalisa conosce ormai da anni e dunque disponibili a darti informazioni per raccogliere tutti quegli input che servono per poter affrontare quel mercato dunque noi siamo tornati pieni di problemi nel senso che pensavamo di avere un prodotto sicuramente adeguato a quel territorio ma tutti i punti cruciali che i nostri interlocutori ci hanno segnalato li stiamo approfondendo oggi con i nostri anche fornitori vuoi la temperatura vuoi l'umidità vuoi come è esposto in quel paese l'altra cosa importante come diceva Annalisa noi non facciamo un prodotto d'appoggio noi facciamo un prodotto su misura che va incastonato in una muratura dunque capire in questo paese come fanno i muri come è fatta la stratigrafia come è fatto la posizionamento come è fatto il davanzale cioè tutte quelle cose che si apprendono soltanto visitando un paese e avendo la possibilità di poter incontrare interlocutori disposti ad ascoltarti ma anche a darti tutti i consigli e tutti i suggerimenti ad hoc per noi essendo prima esperienza eravamo preoccupati prima di tutto per come esportare per dogane non dogane credo che in azienda ci sia veramente un mondo da affrontare per chi ha mai fatto questo tipo di lavoro dalla lingua in poi e dunque ma questo qui diciamo si riesce ad affrontarlo soltanto se tutta l'azienda viene messa sotto pressione non soltanto chi fa la pura parte commerciale ma abbiamo dovuto chiamare in azienda i nostri fornitori i nostri partner per avere certificati sicurezze suggerimenti dalla tipologia del vetro a legno a tutto il resto dunque abbiamo cercato di raccogliere tutte quelle informazioni che non pensavamo così utili per poter fare questo tipo di lavoro e ci è servito anche per farci cultura interna abbiamo approfittato di questa occasione per farci cultura che il mercato italiano non ci aveva mai chiesto dunque il prodotto piace è bello qui va bene dunque uno va senza analisi ad affrontare una fornitura senza pensare nel dettaglio dei vari prodotti poi come esperienza cosa ci possiamo portare ci possiamo portare che io sono rimasto scioccato eravamo alle 11 di sera dopo il ristorante e ci siamo guardati in giro abbiamo visto un cantiere che ci fossero 15, 16, 20 gru che giravano a pieno ritmo da noi le gru non ci sono più la vedere le 11 di sera che c'erano 15 gru in un cantiere che stavano lavorando e bettoniere avanti e indietro ci ha veramente lasciato scioccato dunque come imprenditore uno dice rimango qui vicino perché ho sempre lavorato in Italia e faccio un prodotto e più che altro un servizio su misura e dunque abituati a lavorare diciamo nel raggio di tre ore quattro ore di automobile o di automezzo pensare andare a migliaia di chilometri preoccupa però è anche vero che qui le prospettive sono veramente scarse il futuro non è sicuramente eroso per i prossimi tanti anni e dunque credo che per poter garantire anche i nostri collaboratori un posto di lavoro dobbiamo guardarci guardare fuori il Qatar è la prima esperienza la tentazione di far qualcos'altro anche se abbiamo capito che è meglio analizzare un pezzettino alla volta senza osare troppo ma rispondimi alla domanda specifica cioè nel tuo caso che caratteristiche deve avere il tuo partner ideale il mio partner ideale dopo l'analisi noi abbiamo visto 11 o 13 micro partner potenziali interlocutori abbiamo visto moltissimi progetti abbiamo visto strutture megagalattiche che fanno progetti incredibili però dopo un'analisi attenta e dopo le prime visite ci siamo resi conto che sicuramente abbiamo bisogno di un distributore tecnico noi abbiamo bisogno di qualcuno che sul luogo sappia interloquire col cantiere sappia interloquire col progettista e sappia interloquire anche con la posa in opera perché loro si vogliono la fornitura ma vogliono anche chiavi in mano cioè non gli interessa tanto il prodotto ma gli interessa un prodotto installato essendo poi un nostro prodotto di alta gamma perché l'abbiamo trovato veramente di prodotti di bassissima qualità tanto è vero che dopo i primi tre interventi mi dicevano il suo prodotto è adatto ai palazzi e non alle ville e io e la mia collaboratrice dicevamo pensavo di fare un po' di alta gamma questi mi dicono che è adatto ai palazzi e non alle ville poi al quarto incontro che abbiamo visto cosa vuol dire un palazzo era una villa da 150 stanze ecco quello per loro è il palazzo mentre la villa ha una ventina di finestre dunque per loro il palazzo è un tipo di costruzione che ha quelle 100 stanze come monocasa dunque ci siamo accorti che è un prodotto adatto soltanto a una tipologia di casa molto molto elevata e poi l'altra cosa importante è che per noi che ormai siamo diventati degli esperti per il risparmio energetico e per l'acustica la questa cosa non è così utile dunque noi abbiamo fatto tanti studi tante cose tanta innovazione per far sì di dare un prodotto innovativo e che sia prestazionale non c'è freddo non c'è rumore dunque tutte queste cose non sono così utili dunque dobbiamo dare un prodotto che sia esteticamente gradevole che duri all'esterno dunque sicuramente adeguato dal punto di vista dell'esposizione ma dei contenuti termici e dei contenuti acustici non è così importante grazie mille allora concludendo gli interventi dei nostri innanzitutto se ci sono domande fatevi pure avanti siamo disposti prego installazione è pensata con personale italiano o con personale catarino sicuramente la supervisione è nostra sicuramente però pensare di mandare persona nostro sempre per tutte le installazioni in quel posto diventa diventa un po' difficile anche a punti di costi sicuramente i primi cantieri dovremmo affrontarli noi ma quando poi scopri nei primi approcci che mi dico sì ma i nostri muri non tengono le viti dunque come posate con turbo viti i nostri muri le viti non tengono dunque i nostri muri tengono i tasselli dunque abbiamo dovuto fare un lavoro anche già nella presentazione del prodotto entrare nel dettaglio anche per il fissaggio sicuramente noi faremo ai primi lavori personale nostro ma comunque la cultura lì c'è perché comunque fanno di quei palazzi incredibili dunque diciamo che da punto di vista strutturale sicuramente troveremo la mano d'opera adeguata anche sul loco anche perché abbiamo scoperto che moltissime aziende ormai sono dislocate in loco e stanno producendo lì in Qatar aziende turche aziende indiane che stanno producendo in Qatar prodotti alternativi nostri dunque diciamo che la cultura della posa in opera dovremmo comunque riuscire a risolverla partendo presupposto che loro avvitano anche sul davanzale dunque avvitano c'è una situazione delle opere murarie molto molto particolare il discorso che ha sollevato è sicuramente interessante ed importante perché la prima domanda che fanno in Qatar dopo che tu presenti un'azienda con un prodotto di questo tipo che non è solo la posa del mobile ma ha bisogno insomma di un certo servizio è appunto quella ma avete la vostra squadra per la posa oppure no come nel suo caso la situazione ideale sarebbe quella appunto di trovare un fornitore che abbia già una squadra di uomini anche se non preparati per il suo prodotto specifico ma che sappia insomma lavorare con la ferramenta che sappia lavorare sulle costruzioni quindi diventa appunto ancora di più importante trovare il partner che abbia una struttura di sostegno una struttura proprio per la posa in opera che sia adeguata una struttura che sarà sicuramente formata da parte dell'azienda italiana e da parte di quelli che sono i loro tecnici nelle fasi iniziali di questa collaborazione ma che poi a lungo andare dovrà essere autonoma e poter marciare con le sue gambe e riallacciandomi sempre a questo discorso volevo sottolineare il discorso del partner locale molte volte il partner locale è fondamentale ci sono realtà governative che non compreranno mai direttamente dall'azienda perché loro vogliono sapere di avere una realtà locale alla quale riferirsi per tutto quello che è legato al servizio di prevendita e post vendita quindi nel 60% dei casi non compreranno mai direttamente ma si affideranno ad un partner locale nel caso in cui vorranno comprare direttamente in questo caso si tratta di contractor privati i quali guardano solo ed esclusivamente al prezzo quindi sarà un bagno di sangue perché in Qatar sono presenti tutti c'è di tutto e quello che interessa al contractor privato è quello di massimizzare i suoi profitti come fa a massimizzare i suoi profitti riduce al minimo i costi di acquisto quindi se si lavora con un contractor privato bisogna stare molto attenti al discorso del prezzo se si lavora con un contractor governativo molto spesso i prodotti sono specificati in tanti casi vengono ammesse delle equivalenze al prodotto specificato ma comunque si tratta di prodotti di un livello tecnicamente elevato quindi dove noi possiamo dire la nostra quando si lavora invece nel settore privato residenziale quindi quando parliamo di palazzi di ville lì abbiamo un po' più di margine di manovra per quanto riguarda il budget perché in quel caso è il ricco catarino lo sceicco catarino che deve costruire la sua villa il suo palazzo e allora in quel caso non va da spese se lo stesso catarino deve costruire una torre di uffici da affittare o una serie di compound villette da affittare cercherà di spendere il meno possibile quindi a secondo del progetto che andremo ad affrontare avremo un'attenzione al prezzo diversa ci sono altre domande? allora a conclusione di questi tre interventi che ritengo stati molto molto interessanti volevo giusto dirvi due parole su quello che sarà lo sviluppo del catar da qui al 2022 come sapete il catar si è aggiudicato i mondiali di calcio nel 2022 e hanno stimato un budget di spesa di 220 miliardi di dollari vuol dire che ci sono 220 miliardi di dollari da spendere in progetti progetti che sono legati ovviamente al settore dell'edilizia al settore dei trasporti al settore del come si dice della sanità al settore dell'educazione e ovviamente al settore dell'oil and gas il catar è il terzo paese come giacimenti di gas al mondo a riserve per 25 mila miliardi di metri cubi di gas è il primo paese esportatore al mondo di gas liquido loro hanno studiato una tecnologia per trasformare il gas da sostanza gassosa a sostanza liquida creando questa sostanza che si chiama GTL gas to liquid che trasportano attraverso delle navi su cui sono messi questi contenitori appunto di questo gas trasformato in liquido che poi viene rigasificato quando arriva nei paesi di destinazione ad esempio Rovigo il terminal di Rovigo riceve il gas dal catar il settore dell'oil and gas essendo un paese fortemente basato sugli idrocarburi è il settore trainante del paese e i proventi che arrivano da questo tipo di settore sono quelli che finanziano tutte le strutture che si stanno sviluppando in catar è vero che il catar sta cercando di diversificare le sue entrate sta cercando anche di comprare al di fuori del suo paese noi sappiamo che catar holding ha comprato mezza costa smeralda ha comprato un sacco di proprietà anche in Italia infatti l'attenzione del catar non è solo all'interno del suo paese ma è anche all'esterno hanno costruito una serie di resort hotel in marocco in libano insomma stanno investendo stanno investendo molto come vi ho detto prima i settori di crescita sono legati alle costruzioni alla sanità all'ospitalità e al settore finanziario gran parte della spesa del paese è richiesta dai preparativi per la FIFA World Cup del 2022 la FIFA richiederà 12 stadi in catar ce ne sono due e mezzo richiederà 90.000 camere d'albergo al momento in catar ci sono 10.000 camere d'albergo la FIFA richiede delle infrastrutture adeguate ad ospitare qualcosa come 400.000 fan che verranno a vedere le partite di calcio i primi 20 megaprogetti in catar hanno un valore complessivo di circa 193 miliardi di dollari ma di questi 193 miliardi di dollari soltanto 22 miliardi di dollari sono stati assegnati quindi vuol dire che da qui al 2022 ci sono circa l'87% di questi 220 miliardi che sono ancora da assegnare in progetti ancora da assegnare quindi è il momento giusto per cercare di andare in catare per cercare di poter entrare a lavorare su questi progetti è ovvio che noi come realtà italiane difficilmente entriamo sul megaprogetto del megastadio della megametropolitana sappiamo che Salini in pregilo si è aggiudicato la red line della nuova metropolitana di Doha queste sono le realtà che possono competere a quel livello lì perché ci sono dei requisiti finanziari delle fideuzioni bancarie che devono essere prestate che a volte sono addirittura al 20-25% del valore del progetto che rimangono lì immobilizzati per anni finché il progetto non è finito ci sono delle richieste in termini di valore di progetto di numeri di progetto che le nostre piccole e medie imprese non potranno mai pensare di raggiungere dove sta diciamo lo spazio per noi sta in tutto quel corollario di imprese che faranno da sub fornitura a quelli che si aggiudicheranno la grossa commessa nel caso specifico Salini si è aggiudicato per miliardi e miliardi di dollari ho anche scritto quanto dopo ve lo dico esattamente quanto il valore mi sembra 2 miliardi di dollari si è aggiudicato questa commessa ma per costruire una linea ferroviaria ci sono le opere civili ci sono l'architettura l'ingegneria ma c'è tutto un substrato di fornitori che forniranno le sedie per le sale d'aspetto i contatori per l'energia elettrica che forniranno le pensiline per le stazioni ed è lì che noi dobbiamo andare a collocarci non possiamo pensare di competere a livello altissimo ma sicuramente c'è dello spazio per noi all'interno di queste grosse commesse come avevo detto prima i settori di investimento più urgenti sono quelli legati ai trasporti e all'edilizia solo per darvi dei numeri c'è un progetto di Lusail che è una una città nuova che dovrà essere costruita che ha un valore di 45 miliardi di progetti il sistema ferroviario integrato ha un valore di spesa di 35 miliardi in pregiro si è aggiudicato questa commessa di un miliardo e 700 milioni di dollari di cui 630 milioni per le opere civile e un miliardo e 100 per i lavori preparatori di ingegneria e di architettura quindi i progetti ci sono i progetti sono tanti in diversi settori il settore dei rifiuti per esempio è un altro settore nel quale il Qatar sta investendo molto il sanitario gli ospedali due grossi ospedali stanno per essere completati ma ce ne sono in progetto tantissimi anche lì noi abbiamo una certa esperienza come Italia nel settore ospedaliero quindi per cominciare a lavorare all'estero occorrono delle ragioni solide e degli strumenti adeguati bisogna essere motivati perché gli investimenti abbiamo visto queste tre realtà ci sono specialmente in un paese come il Qatar dove non puoi pensare di andare e tornare con l'ordine in tasca non è così non è un paese facile dove andare l'associazione vi può aiutare in questo processo e può aiutare molto il confronto con imprenditori che si trovano nella vostra stessa situazione e che hanno affrontato il mercato in maniera che può essere paragonata a quella che potreste fare voi io sono uno strumento che può esservi utile in questo caso la CDO è uno strumento con le sue missioni che può esservi utile l'importante è comunque come abbiamo cercato di dire in questo focus bisogna internazionalizzarsi e bisogna pensare ad un processo non ad un'azione mordi e fuci ma è un processo che deve coinvolgere tutta la nostra realtà aziendale domanda abbiamo una domanda là in fondo il microfono volevo solo chiedere una cosa perché fino adesso ho sentito parlare di forniture ma dal punto di vista invece progettuale c'è qualche possibilità? allora aspettate arrivo allora per quanto riguarda studi di ingegneria o studi di architettura diciamo che in Qatar ci sono una serie di step che bisogna fare per poter pensare di andare a lavorare in Qatar e poter firmare un progetto in Qatar per quanto riguarda appunto queste due realtà che si accomunano per quanto riguarda i requisiti il Qatar cosa chiede? chiede una struttura una struttura presente nel paese che abbia un ufficio con una almeno mi sembra 200 metri quadri di struttura chiede che ci siano almeno tre persone tre architetti o tre ingegneri impiegati nella struttura ma tre per ogni sottosistema non so se uno vuole fare l'ingegnere civile allora deve avere tre ingegneri civili se vuole fare lo strutturista deve avere tre ingegneri strutturisti se vuole fare l'architetto deve avere tre architetti se vuole fare l'interior design deve averne altri tre cioè per ogni settore deve avere un tot numero di dipendenti una volta che si è strutturato in questo modo allora si può chiedere la licenza questa licenza viene concessa in seguito ad un esame per arrivare a questo esame però tu devi avere già investito devi aver già assunto le persone devi avergli già dato uno stipendio devi già avergli dato una casa devi aver fatto i visti e tutto quello che serve e devi aver già preso l'ufficio e devi aver già pagato l'affitto fai l'esame puoi anche essere bocciato perché non è detto che tu passi l'esame perché una volta era una cosa molto semplice un'intervista generica adesso siccome vogliono limitare l'accesso di queste strutture perché ce ne sono davvero tante e vogliono favorire quelle locali ovviamente l'esame non è più così semplice è proprio un esame determinato sulla preparazione ma anche sulla cultura generale del paese quindi un italiano che va lì e pensa di fare questo esame magari può cadere su una domanda di cultura generale ed è una cosa continuamente in divenire quindi non c'è una certezza di quello che sarà alla fine questo esame e dove porterà allora nonostante questo è apprezzato molto il gusto italiano e la preparazione italiana dal punto di vista appunto dell'ingegneria piuttosto che dell'architettura tant'è vero che l'architetto Citterio ha vinto il progetto per l'interior design delle 16 lounge del nuovo aeroporto di Doha e ha portato a Doha una serie di professionisti italiani vedi Intertec Notifs Manens e una serie di grossi gruppi di ingegneria che stanno lavorando sull'aeroporto da diversi anni queste aziende ovviamente adesso sono lì e stanno cercando di trovare altri lavori oltre quello dell'aeroporto che si spera che per la fine dell'anno possa finire non è semplice è sicuramente più semplice vendere un pezzo una fornitura molto spesso in questi casi ci si affida ad una realtà locale già presente che sta già facendo questo tipo di lavoro con la quale si collabora magari su un particolare aspetto dell'ingegneria o dell'architettura che la struttura non ha al suo interno bene vi ringrazio molto volevo dirvi che se vi serve insomma sapere qualcosa di più io sono presente con il mio stand qua dietro nell'area azzurra al C23 grazie 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 grazie